Musica 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 800 grammi di pesce 200 grammi di pesce Usaremo solo la pelle E dopo, facciamo tutta la pelle in pelle, non più che un po' ma in dimensione square Quindi, come questo E dopo per 1 kg di pelle necessitiamo 28-30 grammi di salto preferisco aggiungere un po' di salto perché in questo modo non abbiamo bisogno di mettere preservativi dentro la pelle 1 teaspoon di salto 2 tablespoon sweet pepper sempre powder plus the pork casing I will use my homemade so, let's check if this work or not So, now I cut the meat I season the meat and we put the meat in the in the fridge for 24 hour tomorrow we will put in the pork casing and we will put in the pork for the pork and we will put it una gala and we will put it and we will cut it Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti.